Dalla morte alla ressurrezione. Questa è l'anima. E non può essere usata per altre cose. E' inviolabile. Come per ogni essere umano. E oggi è il giorno dell'ultima cena. Come da allora, come nel tempo, ci sono persone che tradiscono. Però ai tempi nostri possiamo sapere chi sono e difenderci. Grazie. 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 Grazie.